Tanta voglia di tornare a giocare e divertirsi. È stato questo lo spirito che ha accompagnato gli sportivi che a partire dal lunedì scorso sono tornati nei campi della città per qualche ora di svago. Scottano in queste ore i cellulari di chi organizza le partite o gestisce gli spazi. Infatti, dopo tanti mesi di stop, con il ritorno in zona gialla, ora giovani e adulti possono praticare gli sport di contatto all'aperto, ma senza l'utilizzo degli spogliatoi. E i campetti sono stati presi d'assalto. C'era una gran voglia, naturalmente, sai. È un peccato che purtroppo cambia tutto, gli orari, perché le telefonate sono tante di prenotazioni, ma non siamo in grado, perché di solito si era abituati a giocare dalle otto a mezzanotte, alle undici. Adesso alle nove e mezza devono smettere, perché i ragazzi devono tornare a casa, perciò non riusciamo a contentare tutti, perché magari prima una serata potevi fare tre partite, quattro partite, adesso più di due non riesci, perché naturalmente questo coprifuoco alle dieci. Si penalizza, però dai, siamo contenti noi, contenti che tanti ragazzi telefonano perché cercano il campo, perché naturalmente non solo la nostra, tutte le strutture in questo momento si stanno riempiendo di prenotazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.